Prepariamo insieme il pan carré fatto in casa, profumato, delizioso, saporito e soprattutto sano e salutare da gustare per colazione o per merenda. Da spalmare del formaggio o del miele naturale, la nutella, la marmellata, lo potete mangiare in qualsiasi modo preferiti. Oggi lo prepariamo in un modo facile e semplice chiunque lo può fare anche se per la prima volta. In una ciotola capiente metto 600 g di semola di grano duro rimascinata. Potete usare qualsiasi marca preferite. Io vi faccio vedere solo per capire quale tipo di semola serve per la ricetta. Metto un cucchiaio di semi di finocchio, un cucchiaio di semi di anici, due cucchiai di semi di sesamo, un cucchiaio di sale, tre cucchiai di olio extravergine d'oliva, un cucchiaio di miele naturale. Metto 12 g di lievito fresco di birra, se no potete usare 7 g di lievito secco, come preferite. Aggiungo poco per volta 375 ml di acqua tiepida. L'acqua può essere di più o di meno, secondo la vostra semola si assorbe i liquidi o no. Impasto con le mani per 5 o 6 minuti. Potete usare la planetaria o il bimbi se lo avete. Per chi usa il bimbi, mette a 5 minuti, modalità spiga. L'impasto deve risultare morbido ed omogeneo, ungo con olio extravergine d'oliva, l'icopro con la pellicola e un canovaccio da cucina. Lascio lievitare fino al raddoppio. Preparo lo stampo per pancarrè, ungo con olio extravergine d'oliva e poi applico la carta forno. L'impasto è bello lievitato come vedete. Ungo il piano di lavoro con olio extravergine d'oliva e metto l'impasto. Stendo sul piano di lavoro per lungo e largo in questo modo. Prendo la misura della lunghezza dello stampo sull'impasto steso e inizio a rotolare. Premo leggermente con le dita per chiudere, come lo spiega il video, senza scordare di chiudere anche l'ultima parte e sarà quella che va messa sotto nello stampo. Premo leggermente con le mani per dare il formato lungo nello stampo, copro con la pellicola e un canovaccio e lascio lievitare per la seconda volta fino al raddoppio. Dopo un'ora circa di lievitazioni, spruzzo acqua fredda dal rubinetto. Potete spennellare con il pennello, come preferite. Per decorazioni potete usare questo mix di semi per pane già pronto. Io ho mischiato dei semi che avevo in casa. Porto a cuocere in forno prescaldato a 180 gradi per 50 o 60 minuti circa. Dopo aver sfornato il pan carré, metto sulla griglia foderata con un canovaccio da cucina. Copro con un altro canovaccio, metto nel sacchetto alimentare e copro con una copertina da cucina. Lascio raffreddare e ammorbidire fino al giorno dopo. Lo trovo morbido e lo taglio per colazioni. Se non l'ho consumato subito, fate come me, lo metto in un sacchetto alimentare e lo conservo in congelatore. La sera, prima di andare a letto, scongelo gli fetti che mi servono per la colazione del giorno dopo. E così rimane sempre morbido e fresco. Spero che la ricetta di oggi vi sia piaciuta e ci vediamo alla prossima. Grazie. 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 Grazie.